La garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti è più rapida ed efficace se le conoscenze e le competenze richieste coprono l'intera filiera. La nostra attività principale riguarda le analisi, audit e il supporto tecnico nell'ambito del settore alimentare. I nostri laboratori sono integrati in una rete globale in grado di fornire soluzioni validate con punti di contatto locali. Tentamus Agri Paradigma garantisce che i vostri prodotti alimentari siano sicuri e conformi alle normative più rigorose. Tre centri di eccellenza situati in luoghi strategici. Ravenna, una gamma completa di analisi di laboratorio per alimenti e mangini. Siracusa, analisi chimiche e microbiologiche per rilevare la presenza di pesticidi e residui su prodotti ortofrutticoli, nelle acque e nei terreni. Signa, controlliamo le condizioni di sterilità mediante l'uso di tamponi ed eseguiamo analisi su alimenti e mangini. Il nostro personale qualificato è sempre a vostra disposizione. Prima, durante e dopo le analisi eseguite nei laboratori. Le modalità di etichettatura non lasceranno spazio a dubbi. Valuteremo per voi la conformità alle normative vigenti. Tentamus Agri Paradigma è sempre al vostro fianco con strumentazione di laboratorio all'avanguardia. I nostri laboratori sono accreditati per garantire la sicurezza e la conformità dei prodotti. Per voi, i vostri clienti e per tutti i consumatori. Tentamus. L'Apps for Life.